Noi ci impegniamo a fare una sanità al servizio dei cittadini, non di quelli che devono portare preferenze elettorali. Volteremo pagina. E anche Agropoli avrà una speranza seria di vedersi rispettata. Lo diceva il governatore della campagna Vincenzo De Luca cinque anni fa ad Agropoli in piazza Vittorio Veneto in occasione della campagna elettorale regionale. Ad oggi Agropoli non solo non è stata rispettata, ma ha dovuto piangere diversi figli che purtroppo oggi non ci sono più. Questi figli, secondo tanti cittadini, chiedono giustizia per un diritto negato, quello della salute. E infatti da giorni c'è grande fermento fra i cittadini per l'arrivo del presidente della regione campagna Vincenzo De Luca. Il governatore infatti è atteso in città nei prossimi giorni per l'inaugurazione della nuova caserma della Guardia di Finanza nei pressi del liceo scientifico Alfonso Gatto, che si terrà il prossimo 16 gennaio. All'evento saranno presenti varie autorità, fra cui anche il premier Giuseppe Conte, di cui ancora non è certa la presenza per impegni istituzionali. Ma agli agropolesi preme la presenza di De Luca e si può immaginare che non verrà colto in modo positivo. I cittadini stanno già organizzando, anche grazie ai social, delle proteste nei confronti del governatore della campagna. Manifestazione a cui prenderanno parte varie persone ed anche con orientamenti politici diversi, che si stanno muovendo per manifestare contro il politico salernitano. A quanto pare le polemiche non mancheranno, dovute principalmente alla situazione in cui versa l'ospedale di Agropoli. I cittadini di Agropoli infatti rinfacciano a De Luca le sue mancate promesse sull'ospedale, che ad oggi è attivo solo un opsauto che non permette di gestire casi gravi e meno gravi, ma solo situazioni da primo soccorso. Nonostante il potenziamento annunciato per l'ospedale con l'aggiunta di sale operatori e altri servizi, la situazione non cambierà con la possibilità di effettuare piccoli interventi, essendo ancora sprovvisto di un pronto soccorso vero e proprio, che possa far fronte alla grandezza del bacino a cui fa riferimento l'ormai ex ospedale di Agropoli. Al fine di manifestare il proprio dissenso su di una situazione sempre più insostenibile, i cittadini sono pronti alla contestazione contro il presidente della regione Campania.